Soltate ormai troppo bene che alla giornalista dell'Alto Mantovano piacciono il dietro le quinte. Avete visto il grande palcoscenico antistante, evento, fiera, il bontà, la fiera di Cremona? Ecco qua dove viene fatto sul pezzo il piatto da condividere insieme a tutti i commensali sul palcoscenico. Questa è la cucina, qui ci sono gli chef. Curiosità assolta? E' l'assaggio che manca, mi dispiace.